bro guarda qua altro regalo vostro preso con il cash dello store tre batterie gopro compatibili con la gopro iro 8 e compatibili soprattutto con l'hypersmooth caricatore io non ho unghie raga purtroppo rimediamo subito top bro tre batterie bella storia cavetto di ricarica vanno così tre batterie bro più quella gopro 4 a posto per la storia richiudiamo il package madonna com'è che erano ancora non si chiude ah forse ho capito forse allora così richiudiamo il package bella storia batteria litio voltaggio 385 capacità 1222 mAh ci sta dai super acquisto bella regaz grazie ancora continuerò a investire i soldi dello store nel canale tre batterie bella storia proveremo a fare uno sgamo adesso c'è uno sgamo siccome non c'ho voglia di farmi un po' di chilometri voglio vedere se riesco a caricare da una fontanella qua ancora più vicina però non so se arriva il tubo poi andiamo a fare la spesa perché in realtà il frigo c'è c'è ancora roba nel frigo diamo fuoco al camper esplode con la cucina a gas polleggio paura nel nonno ci sta prego bel cagnone ush ush vai bro nonno sempre sulla cresta dell'onda straspacca bro non ce n'è siamo quasi arrivata alla fontana sei arrivata siamo quasi arrivati perché l'ho vista mentre lavoravo ho detto cavolo è qua vicino vediamo però mi sta che il tubo non ci arrivi non lo so dov'è qua eccola qua vediamo ci arriverà il tubo ci arriva pingo stai lì ci bardiamo con la nostra storia niente raga non ci arriva non ci arriva il tubo mannaggia di pochissimo proprio riparte il nonno attenzione qua c'è il cartello finisce il comune noi svincoliamo giriamo a sinistra stiamo nella legalità stai male e niente dai supermercato bro siamo arrivati preso siamo arrivati vediamo la seconda oh bel sole come scanna il nonno guardate raga questo qui è un regalo che mi ha fatto Giulio grande fatto a mano in legno giamma e luna colorato strabello lui è un artista un artigiano fa queste scritte qua queste insegne se la volete anche voi cercate su instagram full timer garfagnana andatevi a vedere i lavori che fa che è veramente bravo bella bro grazie ti ringrazio un sacco come vedi l'ho appesa qua nel nonno bella storia comunque vi lascio il link in descrizione ghi grazie grazie che storia la telecamera lì questa era spesa, regazzi il dettaglio pomodorini, scatolame pagioli questi per l'una mozzarella sugo sacchetti tonno olive formaggio patate ancora sugo barattoli di sugo pane in cassetta curcuma che era finita sugo ancora sugo piselli senape sugo fagioli e scottex die questa è roba da dispensa vabbè a parte il formaggio i pomodorini perché nel frigo c'è la roba c'è ancora carrellata veloce in frigo c'è un cavolfiore intero il cavolo pomodori cime di rapa sedano pomodori carote mirroni no sistemiamo bro bro fiorino camper ma la storia sono le 8 e 20 di mattina ho trovato un'altra fontana ho trovato un'altra fontana forse più agibile e prima la mia palazza delle spalle spalle la tua puta della smaglia smaglia certa gente della mamma sono con il 22 stiamo entrando nel negozio la mia carta c'è permesso sì ma negata come eccessi sì segno tutte come messi scrivo mezzo è verità io speravo che piangessi tuoi due quattro amici fessi è una sfida raga è una sfida è una questione di stile bro tutti i mesi giuro su dio su mia mamma che non avrò mai più fiato in gola tutte le volte potevi impararla la vita è una scuola ma c'è chi le ignora qualcuno chiede consigli apre la bocca se decide il caso ciò che dici te le spalle giuro no non mi aiuta risultati sul mio conto c'è chi porta a rancore certi stronzi non li conto sono un calcolatore voglio fogli solo verti il mio odio si misura carlo siamo indipendenti con il modium per le merdi questa trappa è fortuna scrivo tuoi testi best seller sto scopando forse il doppio da quando sanno faccio il rap siamo appena alternati ma vogliamo il doppio mamma il mio blocco con l'arroccato non mi comanda sa che devo andare un po' sull'erba bravo la tua puta te la smaglia certa gente te la manna sono con il 22 stiamo entrando nel negozio la mia carta c'è per messi ma negata come i cessi segno tutte come messi scrivo mezze verità io speravo che piangessi due due quattro amici fessi che sembrate in catalessi la mia squadra con i cessi senza chiedere per me mi troviamo tutti in mente giuro su dio su mia mano che non avrò mai più fiato in gola tutte le volte potevi impararla la vita è una scuola ma c'è chi le ignora qualcuno chiede consigli apre la bocca se decide il caso ciò che dici te le spalla giuro non mi ha aiutato risultati sul mio conto c'è chi porta rancore certi stronzi non li conto sono un calcolatore voglio fogli solo verdi il mio odio si misura carlo siamo indipendenti con i modi per le merdi questa trappa fortuna scrivo tutti sti best seller sto scopando forse il top e quando sanno faccio il rap siamo appena alternati ma vogliamo incontri acqua caricata bro yeah solito posto aria cani per luna bro sunset c'è la brina bro abbiamo caricato l'acqua nel blocco bro stai male ok la trashata l'abbiamo fatta di riempirci acqua alla fontanella era giusto per bro adesso vado in aria sosta cambio comune lo sai conte bro fotte sega necessità bro confine caro c'è una polizia locale boh che era il posto di blocco nel senso inverso bella storia per mio fratello carlitos è un capo da specchia bro puglia salento è un trapper grande cazzo ma da un botto eh mio fratello nel cuore lo sa mi sento molto illegale in questo momento ma è necessità bro fosse la prima cosa illegale che faccio ahahahah abbiamo scaricato bro ci sono anche i nostri friends questi qua sono stanziali sono dei capi bella storia per loro yeeeh adesso vediamo di arginare il posto di blocco madonna sto virus anche su tutte le ragioni del mondo comunque eh a prescindere na 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 yeeeh na na vabbè camper già ma impazzito visuale a 360 raga in questo momento catartico ahahah e di te se devo fare ste robe bestiali bella per conto è comunque il mio fratello lo sai ahahah stai male oh poi un bro mi ha detto che non si può neanche fumare alla guida che ma hanno fatto le storie madonna mia qualcosa ce la fate fare ci fate fare qualcosa qua dobbiamo girare forse o dopo o dopo o dopo o qua o dopo non lo so qua si qua supereroi contro la municipale na 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 supereroi contro le forze del vale sempre visuale a 360 come le mosche ahahah stai male attenzione ci siamo ci siamo ci siamo oh le bro fermati attenzione vittoria ahahah vittoria bella bella conto e die già lo sai bia che provare che come le che ch liberty Grazie a tutti.